Buongiorno, buongiorno al dottor Claudio Serracino da Benessere, ipnosi in soluzione, l'ipnosi DCS, vera e professionale con la V maiuscola. Rispondo ad un signore di Manchester in Inghilterra che mi chiede, dottore, sono anni che ho il diabete, faccio tutte le cure che il mio medico mi prescrive, insulina compresa, volevo chiederle che cosa vuole fare l'ipnosi, vera e professionale, DCS, vera e professionale per il diabete. Bene, posso assicurarti che il pancreas, che se c'è nell'insulina, come ben sai, e che non va tanto bene, ecco perché si inserisce l'insulina dall'esterno, è comandato dal subconscio, dal pilota automatico, dalla tua mente profonda, dal tuo 88% della mente, che controlla tutti i tuoi organi, le tue ghiandole, la pelle, le cellule, i nervi, i muscoli, ogni tessuto, ok? Per cui vanno create le condizioni perché ciò che blocca il tuo pancreas, vada via, si cancelli, sfumi come, si dissipi come fumo nell'aria, e torni la funzionalità, la funzionalità del, la funzionalità del, del tuo pancreas. Ho aiutato centinaia e centinaia di persone nel mondo che hanno avuto diabete con risultati di poco strabilianti. Anche conosco l'audio MP13S dal titolo No Diabete. Anche se il miracolo della propria mente lo fa la mente stessa della persona. Perché in fin dei conti una forte emozione negativa può interrompere in quel momento la parte più debole del tuo organismo. Ecco perché certe volte colpisce questa emozione negativa il cuore, altre volte il pancreas, altre volte la pelle, altre volte il cervello, come le paralisi, gli ictus. Ad esempio mio padre, la causa è stata una fortissima rabbia che ti venne subito prima di essere colpito da un infarto cerebrale, da un ictus, perché pioveva, faceva la legna, e non c'era un figlio che gli potesse dare una mano. Almeno questo è il, come si può dire, è il riassunto, ciò che possiamo desumere di quella giornata nefasta. Per cui la nostra vita, ragazzi, i nostri organi, le nostre cellule, le nostre ghiandole sono comandate dalla nostra mente, che chi ne dica qualche guru. È logico che non funziona il rene, il pancreas, il cuore, l'organo, il motore, la macchina, ma chi guida questa macchina? I nostri pensieri, le nostre parole, le nostre emozioni, è vero o no? Ora la chiave per entrare nel subcosciente e fargli cambiare canale e ottenere i miracoli della propria mente è l'ipnosi di CS vera professionale con la B maiuscola, che non ha nulla a che vedere con l'ipnosi fuffa, l'ipnosi da spettacolo, l'ipnosi da film, neanche con la stessa ipnosi conformista commerciale, pur ottima, da cui sono partito io tanti e tanti anni fa. Se hai problemi di diabete, te oppure il tuo caro, perché l'ipnosi di CS aiuta anche chi non vuole o chi non può essere aiutato, scrivimi soprattutto per email, ti risponderò gratis, compatibilmente a me e ai miei impegni. Visita il mio sito internet www.iprosiassociati.com La mia fanpage su Facebook, I prosi, I prosi, I prosi del dottor Claudio Saracino iscriviti a questo canale YouTube, Benessere I prosi, Soluzioni di CS, il dottor Claudio Saracino e fa share e condividi con amici e parenti perché può essere quel quid, quella molla che gli può cambiare la vita e seguimi anche sugli altri social, Instagram e Twitter, Benessere I prosi, Soluzioni di CS, il dottor Claudio Saracino. Un bacio, un abbraccio amico e amica mia e alla prossima, ciao.